Benvenuti, siamo con il professor Dario Ianes, già docente ordinario di pedagogia e didattica dell'inclusione all'Università di Polzano, corso in laurea in scienze della formazione primaria, co-fondatore del centro studi Ericsson di Trendo, per il quale cura alcune collane, autore di vari articoli e libri e direttore della rivista Dida. Benvenuto professore. Grazie, grazie per l'invito. Professor Ianes, ci eravamo lasciati con il dubbio sul ruolo di indire nella formazione dei docenti di sostegno. In una recente intervista, il ministro Valditara in parte ha chiarito questo ruolo, dichiarando che il sistema universitario è inadeguato e che indire contribuirà ad aumentare il numero di personale formato. Lei cosa ne pensa? Allora, qui bisogna fare un bel passo indietro, perché quando nel 2011, con il collega D'Alonso, partecipammo alla stesura del decreto che a Roma è in una commissione che fondò i TFA a sostegno a quelli che conosciamo, che sono arrivati adesso al nonno ciclo. Allora, lì noi due, come tecnici, come due docenti, in quella commissione eravamo espressione indicati dalle famiglie, dalle famiglie delle persone con disabilità. E avevamo mandato, diciamo, di costruire questo percorso TFA con un unico veto, diciamo molto chiaro, che non si facessero formazioni online. Perché dal punto di vista dei familiari, ed è perfettamente comprensibile, condivisibile, cioè la presenza, fare attività in presenza rispetto a farle online è ovviamente molto più formativo. Allora avevamo quel divieto, infatti in quel decreto lì c'è scritto che non si fanno formazioni online, cioè non si fa attività online. Bene, allora in quel decreto lì l'architettura formativa sostanzialmente era, secondo me, complessa di fatto. A cominciare dalle prove di ammissione, perché c'erano addirittura tre prove di ammissione su varie competenze, insomma, non era banale entrare, infatti molte persone lo sanno in questi anni che purtroppo non sono entrati, ma al di là di quello c'era un'architettura formativa che partiva da una decina di insegnamenti, classico insegnamento universitario. Il tutto erano 60 crediti, per cui un bel anno accademico normale, diciamo, per cui 10 insegnamenti sui vari, le varie competenze fondamentali, dalla psicologia di sviluppo, dalle disturbi del neuro sviluppo, la gestione della classe, l'autismo, cioè insomma, no? C'erano un po' i fondamenti, diciamo, di una, di un ruolo di sostegno inclusivo, non il ruolo di sostegno che si prende ragazzi e se lo porta fuori, no? Ma il ruolo di sostegno inclusivo, per cui con la classe, con i colleghi, eccetera. C'erano, per esempio, insegnamenti legati alla collaborazione interprofessionale, più che a fare rete anche con i servizi, insomma, c'erano dieci insegnamenti. Poi c'erano i laboratori, poi c'erano i laboratori, che i laboratori erano nove, mi pare, otto, nove laboratori, che erano calibrati, ovviamente, per ordine di scuola. Per cui c'era, ad esempio, il laboratorio che si occupava della didattica, della matematica, per dire che era ovviamente differente tra infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado. Per cui nei laboratori si andava ad approfondire, in senso ovviamente pratico, quello che sono i vari aspetti sia della didattica, per cui nell'area linguistica, matematica, sia nelle competenze, diciamo, più di intervento su comportamenti problemi, ad esempio su disturbi emozionali o situazioni simili. Poi c'era il tirocinio, per cui c'era anche il tirocinio, ovviamente, un tirocinio, diciamo, gestito da parte dell'università con dei tutor, con dei tutor che trovavano la scuola, trovavano una classe, si collegavano col tutor della scuola, cioè che avrebbe accettato, che accetta, diciamo, il tirocinante e lo porta con sé nelle varie attività, e il distaccato in università, docente distaccato in università, che faceva con le studentesse e gli studenti una rilaborazione di loro vissuti di tirocinio e delle loro attività. Per cui c'era un'attività pratica nelle scuole, sia gestita, diciamo, da un tutor nella scuola, sia supervisionata, rielaborata e rimpastata, diciamo, in collegamento con insegnamenti e collaboratori, nel tirocinio indiretto da personale distaccato in università. Più portfoglio delle competenze, più elaborato teorico, più discussione finale. Questa era l'architettura complessiva, molto impegnativo, infatti chi insegnava faceva salti mortali per farlo. Questo perché questo tipo di situazione ha un senso formativo, perché tu ricevi degli input più teorici generali, su cui viene valutato come qualunque normalissimo esame universitario. Poi però devi fare dei laboratori, poi devi fare il tirocinio, poi devi fare l'attesione di tirocinio, poi il tirocinio indiretto. Ecco, tutta questa cosa è impossibile farla online. È impossibile farla online, cioè non puoi farlo, non puoi farlo semplicemente. Allora la critica che viene dal ministro è che le università sono inadeguate. Ma come facciamo a fare questa cosa qui con i gruppi di laboratorio per fare un laboratorio sensato? Tu non puoi andare oltre le 20 persone, perché se fai un laboratorio con 400 persone, cioè non è un laboratorio, c'è di nuovo una predica frontale, come lo è un corso? Cioè io posso capire che un corso frontale, ne abbiamo fatti tantissimi, lo puoi fare a 4, 5, 600, 700 persone. Va bene, ci sta. Ma poi il laboratorio devi avere 20, 20, 20. Allora se tu hai un gruppo, se tu hai un corso TFA con 500 persone, con 500 persone, che è un numero piccolo, dicevo, no? Perché ci sono alcuni atenei che hanno un organo. Allora, quanti laboratori devi fare? Quanti laboratori devi fare? Devi fare 500, cioè devi fare gruppetti, per cui per fare un laboratorio, un laboratorio non si fa da solo, ovviamente devi avere un docente che ti fa il laboratorio, ma non un docente teorico, deve essere un docente, diciamo, che ha una grossa competenza pratica, che le fa quelle robe lì, altrimenti non hai un laboratorio che ti aiuta a farle perché c'è la sua esperienza nella sua classe, nella sua sezione, eccetera. Per cui hai bisogno, questo è un grande problema dell'università, che è che trovi che ti fa, no? Magari 10 laboratori, perché hai 200 persone della secondaria di secondo grado sulla matematica, devi fare, no? Devi fare 200, hai 200 iscritti, sono 10 laboratori, devi fare 10 incarichi e devi trovare una persona che ti fa 10 laboratori di 20 ore l'uno, cioè una persona che insegna, cioè, allora, questo c'è un problema ovviamente di sostenibilità, no? Però se vuoi fare una formazione fatta bene, che effettivamente cambi i comportamenti delle persone, perché alla fine dobbiamo dircelo, cioè la formazione deve cambiare i comportamenti delle persone, altrimenti da solo un pezzo di carta, no? Se diamo un pezzo di carta è un discorso diverso, ma oppure una informazione vaga. Ma se vuoi cambiare i comportamenti devi mettere, devi tirare sulle maniche, fare delle cose e lavorare insieme. E questo è il tema dell'università. Le università, diciamo, hanno cercato di calibrare i numeri da un lato sul fabbisogno territoriale, no? Non rispettandolo molto spesso, perché il Piemonte ha fatto pochi posti, ha un fabbisogno enorme, la Sicilia ha bandito tanti posti con un fabbisogno piccolissimo, per cui questo sfasamento è incredibile. Ma poi i numeri sono stati anche fatti sulla base della reale disponibilità del corpo docente, perché se tu non hai, ma non tanto di quelli che ti fanno il corso teorico, perché quelli nella facoltà tu trovi, no? Docento, magari fai su dieci insegnamenti ne fai sei interni e quattro esterni, no? Ce le puoi fare. Ma per i laboratori diventa molto complesso e se li vuoi fare seriamente, allora lì c'è un problema. Ci ha un problema proprio di numeri di sostegno, non tanto di soldi, perché con tutti i soldi che i candidati pagano per iscrizione al TFA, pagano tanti soldi, le università hanno degli utili pazzeschi sui costi reali di un TFA, perché non è un problema di sostenibilità economica, il problema di sostenibilità del corpo docente e di fare le cose fatte un attimo bene, no? Questo è il punto da come io vedo la situazione dell'università. Ecco, io prendo spunto dalle sue parole, perché è uno dei dubbi proprio legati ai percorsi di formazione, in particolare parlo dei 30 CFU. Le università hanno già una grande esperienza che gli permetterà di avviare generalmente i percorsi formativi dei 30 CFU. Come può contribuire Indire alla creazione di questi percorsi? Ma io ho tanto rispetto per Indire, ma Indire non si è mai occupato nel dettaglio di formazione a livello universitario su questi temi, insomma. Per cui è una specie di scorciatoia, diciamo, per mettere in campo un altro soggetto, ma poi in realtà quello che io prefiguro purtroppo è che al di là di Indire, che può essere una specie di bandierina per distogliere l'attenzione, in realtà in quel decreto con la legge 106, poi è diventato la legge 106, lì si prevede che i TFA possono essere fatti dalle università. Per cui università vuol dire tutte le università, anche le università telematiche, visto che li puoi fare online. Dunque, io penso, immagino, che diverse università telematiche si mettano nei 30 CFU a bombardare, per cui a fare una formazione massiva, tutta online sui 30 CFU. Per cui senza quel discorso di laboratori, piuttosto che di tirocinio, tirocinio indiretto, tutti quegli elementi che conosciamo, insomma. Per cui io sono convinto purtroppo che non sarà una formazione di buona qualità, perché saranno delle video lezioni e poco più. Tra l'altro sappiamo che le attività online non sempre, o secondo me quasi mai, hanno lo stesso impatto, la stessa valenza formativa di quelli in presente. Ecco, un altro dubbio che viene dal numero crescente di alunni certificati. Questo numero cresce continuamente e aumentano sempre di più gli ambiti su cui dovrebbe operare gli insegnanti di sossegno. Io faccio solo un esempio, basti pensare al nuovo filone legato alla plus dotazione. Come può un docente riuscire ad avere una buona preparazione in un campo così basso? Ci mettiamo qui, partendo anche dai 30 GFU. Allora, parto dal prima considerazione, aumento delle certificazioni. Questo è un dato, è un dato veramente drammatico, che andrebbe studiato a fondo. Io credo che ci siano due grandi motivi dentro questo. Cioè, uno è un motivo legato effettivamente alle capacità più avanzate di fare alcune diagnosi. Alcune diagnosi, per esempio i disturbi dello spettro dell'autismo, che aumentano in tutto il mondo, non solo in Italia, beh, insomma, sono un effetto anche della capacità di identificare precocemente alunni o alunne con questo tipo di disturbo e diagnosticarli. Questo da un punto di vista scientifico e dell'intervento è un bene, ovviamente, perché prima riesco a identificare il sedimento assolutamente positivo. C'è anche, ci sono degli studi che indicano come realmente, al di là delle capacità di diagnosi, aumentano proprio i disturbi. Cioè, c'è una prevalenza che aumenta per fattori di tipo ambientale, piuttosto che di altro genere. Per cui c'è anche una reale crescita, al di là della capacità di diagnosticare. E poi c'è un altro fattore, però, questo è un fattore negativo, secondo me, che è l'aumento di complessità e di stress che va sulla scuola. Cioè, se nella scuola ho persone sempre più stanche, sempre più demotivate, sempre più sfiduciate, con classi sempre più eterogenee, sempre più complesse, aumentano problemi comportamentali, aumentano problemi emozionali, di relazione. Cioè, ho un carico di disagio nell'insegnante, di stress, di difficoltà, sempre più alto. È chiaro che il docente o i docenti desiderano un aiuto. Cioè, desiderano un qualcuno che entri in questa situazione e via la mano. E come fanno ad averlo? Ce l'hanno solo attraverso la certificazione di disabilità. E allora lì, una spinta, surrettizia, diciamo, a fare qualche certificazione, diciamo, partendo da una situazione magari emozionale o comportamentale, facendola diventare un disturbo positivo, provocatore. Cioè, costruire, adesso non dico falsificare, ovviamente, ma avere una pressione del sistema, sul sistema sanitario, che è quello che fa le diagnosi, più ufficiale o accreditato, allora lì hai una pressione di un sistema in affanno che cerca, diciamo, attraverso le varie diagnosi, di avere personale in più. E infatti il personale in più arriva, perché arrivano i santi sostegno più o meno specializzati. Per cui io sono convinto, infatti io cito sempre delle ricerche di Raffaele Iosa, di parecchi anni fa, che dicono che quando tu hai un corpo docente stabile, per cui si sono costruiti dei legami forti tra i docenti, sono capaci di programmare insieme, di allearsi, di costruire insieme le cose, lì tu vedi che la richiesta di ore di sostegno e di certificazioni è molto più bassa. Dove hai un corpo docente, invece, che cambia continuamente, con poca formazione, con poca motivazione, con poca collaborazione, lì l'appiglio, diciamo, ad andare a delle certificazioni, a fornire, diciamo, gli elementi al sistema sanitario, spingere le famiglie, spingere, per avere risorse in più. Io credo che questo sia effettivamente un problema. Arrivando alla plusdotazione, allora anche qui dovremmo cercare di uscire da una logica delle categorie. Cioè io ho un deficit, io ho invece un plus, qualcosa in più, no? Entrare invece nell'idea che siamo tutti differenti, siamo tutti differenti. Uno ha una capacità in più, uno ha una capacità in meno, uno ha un'abilità in più, l'altro ha uno stile diverso. Cioè siamo tutti differenti. Allora, una didattica inclusiva è quella che riesce ad offrire varie diverse opportunità. Allora, io ho un deficit particolare, ho bisogno di elementi di semplificazione, ho bisogno di fare le cose con dei tempi più distesi. Benissimo, trovo all'interno delle attività formative questo. Invece tu c'hai un'ottima dotazione, sei più veloce, comprendi meglio, hai bisogno di più complessità, ok, trovi nelle attività formative l'offerta che va bene anche per te. Non è che per te trovo l'insegnante di eccellenza, diciamo, che ti porta nello stanzino e ti fa fare le cose super complesse. In una didattica inclusiva, aperta, plurale, differenziata, è come trovarsi in un negozio, diciamo, di articoli sportivi, dove tu trovi i vari materiali adatte alle tue capacità, ai tuoi obiettivi, ai tuoi hobby, nelle varie misure, però tu scegli e puoi personalizzare la tua… per cui io credo che la plus dotazione sia stato un ottimo, come dire, un ottimo innesco per pensare alla didattica inclusiva, non solo schiacciata su quelli che non ce la fanno, ma aperta proprio come ventaglio ad offrire varie e diverse opportunità, anche per chi può beneficiare di forme di complessità e di difficoltà più alte. Ecco, chiudo con un'ultima domanda. Sul sostegno abbiamo visto che rincorrere la richiesta di personale formato ha portato il sistema ad un cronico affanno, una criticità che riguarda, nel modo particolare, le scuole del nord Italia. Lei propone un cambio di approccio che coinvolge anche i docenti curricolari e dove l'insegnante di sostegno rappresenta l'esperto che supporta e forma tutti i docenti. È questa una possibile soluzione a questo problema? Io questo lo sostengo da 13 anni, nel senso che per me la soluzione alla crisi cronica è irreversibile, secondo me, è proprio strutturale del sostegno, è proprio quello di toglierlo di mezzo, cioè abolirlo. Ma abolirlo in senso positivo, cioè evolverlo. Allora, se noi adesso in Italia abbiamo 250.000 insegnanti di sostegno, circa, diciamo, numero sempre crescente, sempre il cronico problema che non sono specializzati, sempre le solite litanie inizio d'anno. Benissimo, allora se noi prendessimo questi 250 e ne mettiamo 220.000 in organico funzionale, curricolari, perché sono degli insegnanti prima di tutto, no? Sono degli insegnanti. Dunque devono diventare, secondo me, dei conti tolari reali, cioè su una cattedra di italiano ce ne due, la cattedra di matematica ce ne due, no? E così via, cioè tu aumenti l'offerta formativa, arricchisci l'offerta formativa con dei curricolari a tutti gli effetti, non con delle persone che sono nominate soltanto perché c'è la diagnosi, c'è la certificazione. Diventano, di questo numero, diciamo, di docenti, diventano contitolari a tutti gli effetti, l'80%, più o meno. Quel 20% è rimasto, sono i più bravi, diciamo, solo quelli che hanno sviluppato negli anni veramente delle competenze eccezionali, eccezionali, fatte di convegni, master, lauree, cioè hanno fatto tutto a spese loro con grandissimi sacrifici. Quelle competenze lì devono essere messe a disposizione di tutti i colleghi, con degli esperti, diventando degli esperti itineranti, chiamiamoli così, cioè su un ambito, su una rete di scuole, su un territorio, in modo da poter essere veramente quelli che con la loro specialità, con la loro specializzazione, con le loro competenze, vanno a formare e vanno in situazione. Non fanno prediche o non aprono sportelli, ma vanno in classe, vanno nelle situazioni concrete, a far vedere come si fa, aiutare i colleghi. Perché non c'è più l'insegnante di sostegno classico, diciamo. C'è un corpo docente più ricco, più potente, con più di 200.000, parliamo di numeri che fanno veramente la differenza, perché su un corpo docente tu metti un 25% di persone in più, col corpo docente si arricchisce in un poco per la gestione di tutte quelle cose che si dicevano prima, cioè la didattica plurale, differenziata, l'offerta che può andare bene per chi ha un problema, per chi ha un'eccellenza, quello. Tra l'altro lato tu hai 25-30.000 persone, per cui non poche, che presidiano sulle basi delle loro competenze le varie scuole. C'è chi è esperto di autismo, chi è esperto di comunicazione umiditativa alternativa, chi è esperto più di aspetti emozionali, chi è esperto di apprendimento cooperativo, per cui va nelle classi proprio a modificare la realtà. Questa secondo me è la soluzione del tema del sostegno, cioè evolvere in due direzioni. Da un lato tu evolvi di più verso la normalità del corpo docente, perché è lì che si fa l'inclusione, non si fa la conclusione. E dall'altro lato crei una struttura di forte competenza, di forte competenza, che dà supporto tecnico ai colleghi, che spesso sono da soli e non sanno cosa fare. Grazie per sorridere e per essere stato con noi. Grazie a voi e un bocca al lupo.